Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Andrea di Andrea Safia ed oggi siamo sul dropper magico di Fortnite ho già iniziato, ho già curiosato, siamo già sulla terza però dopo ovviamente vi farò vedere anche gli altri perché le farò ovviamente però sono solo tre dropper non piace a nessuno porca perché non è andato avanti, non è andato avanti non è andato avanti, non è andato avanti non è andato avanti non è andato avanti senti, riproviamoci perché non posso morire così non moro no, è un altro dropper, mo è troppo difficile con la cosa che cacchio, non è troppo quello da è la cosa che ODIO DI PI Game ma veramente non sto scherzando, non mi va neanche Aiuto, aiuto vado di qua, di qua, faccio così, io faccio così, così, è la canzone delle Wings comunque, cioè, e vabbè ma è finito sto troppo, prima o poi devo morire vero, che cavolo, come cavolo, come, è impossibile, comunque scrivete nei commenti se vi piace più questo sfondo dropper magico, tragico vai avanti vai di qua no 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 non se può, non se può, non se può va, è vicino pure, è aperta la finestra, ora mi vede no, vabbè, bellissimo, 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 estremamente bello è aperta la finestra aiuto vai avanti vai quella di qui no, se può prendermi un'altra no Allora Siamo pronti Per un altro magico Tragico Dropper E' sempre uno di quelli Avete capito Ohi Io ci credo Ma basta che stai solo in un posto Vabbè Sembra che hai la gravità Ma dove Ma dove lo tocca Vabbè Ma tu Ma tu Ma tu Ti sonni le cose Vabbè Tutte le sonni le cose Tutte le sonni Tutte le sonni Vabbè 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 Allora Mi 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 Occhio No Dai Porto Dai Che mi ha fatto perdere Volga E poi ho pure vinto Che voglio riproducchi Nuovamente Voglio rifarlo Assolutamente 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 Bellissimo Questo troppo Scappianutto Allora Ho preso Vabbè Ho preso La monotina Figo Vai Non morireti Prego Non morireti Prego Non morireti Prego Non morireti Prego Vai Non morireti Prego Non morireti Prego Non morirete Prego Sono troppo Grande Sono troppo Grandi aiuto no la zona la zona no no troppo bello troppo troppo bello troppo 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 bello non ci credo come è fatta a morire oh raga come è fatta a morire scrivete anche nei commenti come è andata voi si come è andata premila no allora 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 secondo me è infinito è infinito e quando mori finisce chiudo gli occhi e ora mi impegno aiuto aiuto no come ho fatto da carro ma dai ma sono passato 3 metri di distanza e poi però c'è il coronavirus bello aiuto non toccarlo mamma mia ne ho rischiato ho rischiato più della vita ho rischiato più della vita ho rischiato oh mamma oh mamma no aiuto 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 non ci credo sono giocati vai che ce la faccio 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 aiuto no non toccare la zona vai Ragazzi concludo qua Non sapevo che fosse Così bello questo dropper Infinity dropper Bellissimo Bellissimo Pensa che metto Steph2317 Così se avere questo video E' contento Steph2317 Comunque raga Non si va a distrugare Vabbè termino qua il video E niente E' contento di un piacere il video Comentatelo Iscrivetevi al canale E ci vediamo nel prossimo video Bella ragazzi Ciao 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 Ciao